La mostra per il direttore del teatro Stipato Strappato che è il titolo della nostra produzione di quest'anno quindi perché in 30 anni non è un solo tipo di amore ma tanti l'amore in tante sue sfumature nei confronti dell'arte nei confronti degli altri e abbiamo cercato di racchiudere in una bellissima sala 30 anni di storie che non sono pochi quindi c'è tutto il filone delle nostre produzioni che sono circa 40 dall'inizio della nostra storia quindi più di una produzione all'anno noi siamo un teatro di produzione creiamo i nostri spettacoli sotto l'attenta regia di Razzaro Calcagno che è il fondatore e il presidente c'è tutto il filone della scuola noi facciamo una scuola dagli 8 anni e in su di teatro a inclusione sociale c'è tutta la parte dell'estero perché Stipato Strappato è andato intorno per il mondo in tutti questi anni e c'è la parte piccolissima di tutti gli artisti che sono venuti da noi in 20 anni di stagioni esatte dicevo oggi Giorgio Giacchino che è il nostro segretario e fondatore anche lui e quindi abbiamo cercato di racchiudere alcuni degli amici che sono venuti a trovarci e poi c'è il materiale ci sono scenografie ci sono costumi ci sono premi e la mostra sarà visitabile qui nel centro polivalente di Giorgio Strada che è dallo Iazzo di Arenzano fino al 5 di luglio quando poi chiudiamo la mostra con la festa in piazza da Arenzano in terzetta nostra sera grazie a tutti grazie a tutti